con tanti fiori non poteva avere anche tante farfalle magari se vi sentite più tranquilli ci mettete un micro puntino di colle naturalmente misure e stampi e metrature del tessuto lo avete tutto quanto nel pdf che accompagna il vostro video corso a realizzare questo magnifico fiore è una pinzetta con le due punte piuttosto lunghe secondo me è un magnifico centro tavola l'ho lavorata con un tessuto di cotone con una magnifica fantasia di rose e dall'altra parte con il velluto mettiamo al centro di un cerchietto di 6 centimetri e ci vediamo al prossimo ciao 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 ciao